Scansione automatica dei repository in Azure Pipeline. Ciao, io sono Michele e in questo video andiamo ad analizzare l'automazione per scansionare i repository al fine di trovare problemi di sicurezza. Questa è una sessione esplorativa, vediamo i tool mano a mano che li provo, che li conosco, leggo la documentazione, incontriamo degli errori, quindi non c'è nulla di iscripitato in anticipo, nulla di preparato e siamo proprio in modalità esplorativa. Anche al software engineer più attento e scrupoloso potrà essere capitato di fare commit e push all'interno dei propri repository di quelli che sono magari degli asset che compromettono la sicurezza. Mi riferisco per esempio a quelli che possono essere dei token, delle password, delle connection string di ambienti sia di test che di produzione, perché anche una connection string di un ambiente di test può rappresentare un problema di sicurezza, da cui un attaccante può magari cominciare ad espandere la propria superficie d'attacco, fare movimenti laterali nell'ambiente in cui è entrato. Ecco quindi che nella frenesia della quotidianità, nelle mille cose che si fanno durante un giorno, qualcosa può scappare ed è proprio il punto giusto dove possiamo inserire dell'automazione che faccia dei controlli per noi non appena facciamo una modifica nel nostro repository. Quindi andiamo a portare, a fare a sinistra, a portiamo a sinistra, facciamo uno shift left di questa tematica di sicurezza andando a spostarla vicino al commit di un developer e andando ad investire in automazione, in piena compliance di quelle che sono i suggerimenti e le linee guida delle pratiche DevOps. A questo punto potremmo dire quasi DevSecOps, ma è una parola molto marchettara, fa il suo effetto, ecco però dentro DevOps diciamo naturale, vanilla, le tematiche di sicurezza sono già trattate, per cui per me dire DevSecOps è un po' una ridondanza. Mentre mi stavo documentando su come implementare questa pratica, risolvere questo potenziale problema di sicurezza, ho trovato AquaTrivi che è un tool, è un security scanner decisamente versatile. Lo possiamo utilizzare, qui è la sua pagina di GitHub che sto guardando da qualche minuto e ho deciso di farci il video e guardarla, diciamo documentarla così, senza troppi editing, diciamo quasi in tempo reale. Trivi quindi è un tool di sicurezza che si basa su due concetti, ha degli scanner e dei target. Gli scanner sono quello che può cercare e i target è dove li può cercare. Quindi per esempio target, che cosa Trivi può cercare, può cercare all'interno di container image, di file system, di repository git, e qui mi voglio agganciare, all'interno di virtual machine image e così via, lo vediamo tutto qua. Allo stesso modo che cosa all'interno dei nostri bersagli può trovare, quindi che cosa può scansionare, a che cosa è sensibile Trivi, a pacchetti o sistemi operativi in uso, a CVE, quindi vulnerabilità note, problemi di configurazione di infrastructure as code, informazioni sensibili o segreti, ed è qui che mi volevo arrivare con il mio esperimento, licenza di software e così via. Quindi voglio fare una prova all'interno di una pipeline di Azure DevOps per vedere, faccio finta di sbagliare a mettere una password all'interno, una connection string all'interno dei miei sorgenti e voglio vedere un bel warning, una bella pipeline rossa all'interno del mio Azure DevOps. Sempre scorrendo qui la documentazione, poi mi sono accorto, all'inizio stavo pensando che avrei dovuto fare dello scripting o utilizzare in qualche modo le funzionalità di container di Azure DevOps all'interno delle pipeline e così via. Ma poi continuando a scorrere ho visto che mi sarei risparmiato molto scripting perché qui c'è un supporto alle GitHub Actions, c'è un plugin diviso studio code, ma poi ho visto che su Ecosystem c'è anche un link al task ufficiale da loro sviluppati su Azure DevOps, che quindi si può utilizzare questo task per abilitare le funzionalità di Trivi senza fare scripting. Andiamo quindi ad utilizzarlo, entriamo in Azure DevOps e faccio le mie prove. Allora facciamo spazio qui, sono dentro all'interno del mio progetto cavia di Azure DevOps e vado a vedere se c'è, faccio sul marketplace, l'estensione da installare per avere il task. Eccolo qui, cerco acqua e mi viene fuori acqua Trivi. Ha anche abbastanza un discreto numero di installazioni, quindi di sicuro non sono uno dei primi ad utilizzarle, magari anche un pochino rodato. L'ultimo commit 5 mesi fa, l'ultimo aggiornamento appunto aprile 2023, quindi dai probabilmente stiamo usando un qualcosa che è effettivamente manutenzionato. Faccio get it free e vado ad installare. Se la reattività di Azure DevOps me lo consente, dai metto in pausa il video. Eccolo qui, questa è la mia organizzazione, faccio install, processing. Installazione completata, vado sulla mia organization. Ritorno nel progetto, a questo punto apro una pipeline qui dentro e faccio una nuova nel mio repository git, qui parts unlimited, la chiamo security.scan.yaml. Ok, a questo punto tolgo il trigger perché non voglio che parta in questo momento mentre la sviluppo ogni volta che tocco o modifico la pipeline, anche se vabbè per svilupparla dovrei aprire un branch e così via, ma sto facendo delle prove, mi permetto qualche scorciatoia. A questo punto le immagini su Ubuntu sono più rapide, quindi scrivo ubuntu-latest, ingrandisco, ok, qui tolgo tutto, non mi interessa compilare la mia applicazione, voglio fare uno scan del repository, quindi pulisco tutto quanto, lo scan, cioè il checkout del repository è implicito all'interno di una pipeline, quindi non devo fare il task di checkout in maniera esplicita. Vado direttamente su un task, provo a scrivere trivi, ok, è venuto fuori, qui mi aspetto i settings, eccolo qua, settings, quindi vado in automatico sulla latest version, va bene, sto guardando così le opzioni, vado un po' a intuito, path to scan, tutto quanto, gli do le radice, the specified will be scanned using file system scan, va bene, sì, voglio che scansioni un file system perché la pipeline scaricherà il repository di git, se lo troverò nel file system dove gira l'agent, perfetto, a questo punto lascio così, lascio un attimo le impostazioni di default, path to scan, image to scan, severities, api key, secret, options, vediamo così intanto, lascio tutto default, ecco, e faccio un save and run e vediamo cosa succede. Allora, ho beccato rosso, una dimostrazione che sto andando un pochino così in modalità esplorativa, dice dovresti specificare qualcosa di cui scansionare, usa image or path option. Ah, vabbè, path, non mi arriva persino la mail, edit pipeline, qui, voglio dargli un path, beh, non l'avevo messo perché di solito le cose obbligatorie hanno un asterisco, evidentemente nel file manifesto con cui descrivono questo parametro non l'hanno messo, quindi metto build.sourcesbuild.sourcesdirectory, non mi ricordo mai se ci va la s o meno, quindi age of devops predefined variables, andiamo a vedere source, scrivo directory, age of build directory, voglio la cartella dei sorgenti, build.andiamo giù, f3, 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 f3. Sources directory, perfetto, sì, quindi questa qui è una variabile predefinita di age of devops, quindi mi fa appuntare la cartella dove l'agent scarica i sorgenti, quindi build.sourcesdirectory. Avevo fatto giusto, torniamo in age of devops, vediamo se lo becco, vabbè, torniamo indietro così, eccolo qui, build.sourcesdirectory, Sources directory è scritto giusto, quindi qui seleziono, faccio add, ci vado sopra, save, save, faccio il run a mano Faccio una pausa, vediamo cosa succede alla fine Allora il task è partito, lo vediamo qui, è trivi, sta utilizzando docker, ho beccato un rosso, vediamo cosa succede Allora, vediamo appunto il comando docker run, va bene, gli passa tutti i parametri, vediamo cosa è andato in errore Info in the top of the tv, downloading db, my configuration scanning, fatal file system, scan error, scan failed, failed analysis Sì va bene Work file system error, allestate no such file or directory Ci dice che home, vsts, work1s non esiste Allora, probabilmente stiamo andando incontro a un problema di directory Ovviamente, ovvio, è scritto qui, ma nel senso che lui sta scansionando una cartella dei sorgenti all'interno del container che è in esecuzione Molto probabilmente è così, quindi docker run, c'è l'immagine che va Provo a cambiare così, qui vado a cambiare e invece che mettere run3v using docker image Vado ad utilizzare, vado a provare ad utilizzare questo Vediamo cosa fa, o meglio andiamo sulla documentazione Non mi dice niente Marketplace Version Docker Aquasec Trivia Alternative Uso Trivia Binary Ah, eccolo qua Se io metto falso Trivia viene utilizzato con il suo binario Invece che dentro un'immagine Docker Perfetto Quindi andiamo, ritorniamo qui Docker false Quindi in questo punto dovrebbe, mi aspetto, che venga scaricato durante l'esecuzione della pipeline dal task stesso E venga eseguito non all'interno di un container Facciamo save Run Ho un'altra pipeline con un trigger che di solito mi passa davanti E' questa qui La vado subito a buttare via E lascio partire questo Già che ci sono la rinomino Mentre aspetto Questa la chiamo PartsumLimit.security Scan Save Andiamo a vedere cosa succede Job is pending Metto un attimo in pausa Ok, questa volta Trivia non viene più eseguito utilizzando l'immagine di container Partono i binari Di nuovo abbiamo rosso Eh, non c'è Non c'è pace questa sera Vediamo Vediamo Ah, però Guardando un attimo i log Effettivamente Qui Sono stati trovati dei problemi Quindi Trivi Detected Problems Ok Quindi è giusto così Andiamo a vedere che cosa fa il task per noi Trivi Qui Quando utilizziamo questo task Utilizza le funzionalità di personalizzazione della pagina di report di una pipeline Della run Aggiunge lui Questa tab qui Vediamo qua Aggiunge Trivi Qui E vediamo che cosa trovate Quindi c'è stata una scansione che ha trovato 11 problemi con 11 vulnerabilità Ecco che vediamo Allora, questo qui è un sorgente abbastanza vecchio Che viene Lo utilizzo Generato da un Dal Azure DevOps Demo Generator Che porta dentro un Un sorgente In .NET Framework 4.6 In qualcosa del genere Ha i suoi anni E quindi mi aspetto Effettivamente mi aspettavo che trovasse Dei problemi Io avevo fatto Stavo facendo tutto questo per Vedere La scansione di una password Che trovasse una password all'interno dei repository Però vediamo Che ci sono scopre delle CVE Quindi delle vulnerabilità note Anche a livello high E quindi ci pianta Ok Abbiamo problemi con jQuery del 2020 Abbiamo roba di librerie Microsoft Qualcosa su Newtonsoft JSON Eccetera Ok Quindi effettivamente sta funzionando E sta facendo il suo mestiere Ovviamente se io ci clicco sopra Mi porta a una spiegazione Di quella che è la vulnerabilità Una pagina di reportistica E tutto quanto Molto interessante Andiamo a vedere se a questo report Si aggiunge Un problema E mi aspetto di trovare qualcosa qui Nei secrets Andiamo in modalità molto esplorativa Qui ecco Abbiamo la conferma Che è un'app AspNet 5 Facciamo un esempio Che qui Che ne so Da qualche parte C'è un file di config Sì Ce l'abbiamo qui All'interno dei sorgenti Abbiamo il Web.debug.config Abbiamo anche il webconfig Così via Oh perfetto Abbiamo anche nel webconfig Di default Una bel default connection string Ecco qui Io voglio provare A sostituire Il classico errore Mettiamo invece che Integrated security Andiamo a mettere Una Una connection string Mettiamola nel file Di debug Qua Andiamo a mettere Un Un segreto Quindi vado A decommentare Questa cosa L'ho sposto L'ho sposto fuori qui Scrivo MyDB Data source Initial category Invece che integrated security Scrivo user Id Se non vado errato Tipo sa E password Ci scrivo A12345678 Punto esclamativo Andiamo a vedere Se mi trovo Una cosa di questo tipo Faccio commit Commit Ok a questo punto Ho l'ennesima pipeline Qui che parte La voglio Voglio stoppare E faccio partire Questo affare qui All'inizio Quando sviluppo Mi piace avere Le pipeline Mi piace avere Il controllo manuale Una volta che sono Tranquillo Che tutto quello Che ho fatto Lo ritengo a posto Metto i trigger E tanti saluti Di nuovo Vediamo qui Download dei sorgenti Download di Trivi L'ultima versione Direttamente da GitHub Sta facendo tutto il task Io non ho scritto Una riga Di scripting Andiamo a vedere Ovviamente ci sono Gli stessi problemi di prima Prima erano 11 Vediamo se sono diventati 12 Andiamo a vedere qui Su Trivi E non ha trovato Il mio secret Non ha trovato Il mio secret Mi aspettavo Di sì Che strano Vediamo anche Nelle info Che secret scanning Is enabled E quindi Sta fallendo Non ne ho idea È proprio Una esplorazione In questo caso Allora Voglio vedere Se è qualcosa Di ambientale O se effettivamente O se effettivamente Ci sto capendo Qualcosa io E Voglio riprodurre La stessa cosa Nella mia Workstation Quindi mi prendo Trivi Lo scarico Ve lo metto In una cartella E vediamo Ne ho scompattato Il contenuto All'interno Della cartellina Trivi Ora mi faccio Il clone Dei sorgenti Che ho qui Clone Facciamo Cd Due punti Barra Dev Git Clone E parts Unlimited Mi prendo La directory Cd Parts Unlimited Mi prendo Questo Copio Vado In Cd Cd Due punti Barra Dev Tools Trivi Provo A guardare Il Comando Di esempio Che è qui Trivi File System Scanner Vulnerabilità Secret Config My Project Va bene Allora questo lo prendo Lo metto qua Faccio così Questo non è My Project Ma è Cd Parts Unlimited E term Trivi Ha ha Ops Facciamo un tab qui E partiamo Vediamo cosa succede Sta facendo esattamente Quello che succedeva In pipeline Quindi sta scaricando Il database Delle vulnerabilità O qualcosa Secret scanning Is enabled E abbiamo effettivamente Un report Abbiamo un report In questa forma di tabella Però di nuovo Anche qui In locale Non mi trova Il mio secret Molto interessante Quindi è abbastanza Deboluccio Questo algoritmo Visti Innumerevoli Tentativi Ed errori Allora ho messo in pausa Ho fatto un po' Di documentazione Allora che cosa scopro Scopro dal sito Ufficiale Che effettivamente Perché non ci trova Il problema Nel file webconfig Perché Perché all'interno Di Trivi Sono stati Implementate Un insieme Finito Di scanner Per segreti E li vediamo Qui Nei sorgenti Ho cliccato un po' Nella loro documentazione E così via E ho trovato Che sono Diciamo Ci sono presenti Questi scanner Questi provider Questi driver Diciamola così E all'interno Qui non c'è SQL server Quindi Siamo coperti Solo se I segreti Che noi utilizziamo Fanno Fanno riferimento A tecnologie Coperte da questi scanner Ecco perché Quella stringa Di connessione Di SQL server Non funzionava L'ho detto Che stavo andando In maniera esplorativa Infatti mi sono beccato Dei problemi Diretti in faccia Cosa possiamo fare Allora per verificare Effettivamente La funzionalità Del tool Ho utilizzato Ho creato Un segreto Di SendGrid Che è un provider Per mandare email Fake Ve lo dimostro Quindi lo metto All'interno Di Azure DevOps Vado qui E sostituisco Vabbè Gli posso anche lasciare Questa cosa Vado in Modifica Butto lì Il segreto In inventato Faccio commit A questo punto Pam Vado sulle pipeline Interrompo di nuovo La solita qui E Faccio partire Lo scan Allo stesso tempo Lo vediamo girare in pipeline Ho già fatto la stessa cosa In locale Nel file system Da me Lo faccio partire Ho pulito Ho cancellato Va bene Lo facciamo anche qui E Control V Salvo Faccio partire Eccolo qua E abbiamo Il web bug Conf Y13 Vabbè Qui viene Redatto Secretato E abbiamo La stringa Vogliamo vedere La stessa cosa All'interno Della pipeline Abbiamo quindi qui Il problema Errori Identificati E andiamo a vedere Nel report Di Trivi Che cosa succede Effettivamente Adesso abbiamo 12 problemi Abbiamo il segreto Che è stato individuato Con la sua severity Eccetera Quindi facciamo Un po' Un riassunto Di questo tool Molto intuitivo Molto facile Da installare Almeno per quanto riguarda Azure DevOps C'era il task Nella pipeline Direi anche Discretamente documentato È partito dopo Un paio di tentativi Ed errori Potevo guardare La documentazione prima Nota Un pochino dolente E diciamo Che non ha Un motore Euristico Al momento Potentissimo Mi viene da dire Visto che ha Degli scanner Molto mirati Quindi per esempio Io sono andato In quello che credevo Una tecnologia In effetti lo è Diffusissima Ma non mi ha beccato La connection string Di SQL server Ragazzi Stiamo parlando Di una tecnologia Abbastanza All'ordine del giorno E va bene Detto questo Ho visto che ci si può fare Un work around Perché nella documentazione È specificato Che si possono anche mettere Delle regole custom Con delle regex Però se si cerca di risolvere Un problema con delle regex Di solito si hanno due problemi Non è facile masticarle E così via Quindi va bene Magari il work around Per SQL server C'era Comunque in generale Cambiando tecnologia Con Sandgrid Abbiamo visto Che il secret L'ha identificato Bene Per quanto riguarda La pratica Di scansione Dei segreti Per oggi Ci fermiamo qui Ci tengo a dire Che questo non era Un video assolutamente Sponsorizzato Da acqua Trivi O quello che è Era un'esplorazione Che volevo fare Io per conto mio Quindi se da questo video Hai imparato qualcosa Ti è piaciuto Metti mi piace Iscriviti al canale Così avrai notifiche Sulle nuove uscite Ciao